Fa un caldo porco! Sono appena tornato a casa, volevo bermi una birretta fresca ma mi sono reso conto di averla lasciata fuori al caldo. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole Chimico di Quartiere per un veloce video di saluto prima delle vacanze. Sarà capitato anche a voi magari di, non so, invitare degli amici e stanno per arrivare e vi rendete conto che le birre non le avete messe nel frigorifero per tempo. Come potete fare per raffreddarle molto molto velocemente? Oggi la chimica c'è d'aiuto per risolvere questo annoso problema. Abbiamo del ghiaccio, il ghiaccio fonde però a 0 gradi quindi se noi prendiamo una birra e la infiliamo dentro, prima di tutto non c'è tantissimo contatto termico perché il ghiaccio rotto grossolanamente non aderisce perfettamente alla bottiglia e poi appunto la temperatura è di 0 gradi circa. Potremmo migliorare un po' la situazione prendendo un po' d'acqua mettendoci dentro del ghiaccio, prendendo un recipiente più grande, immergendoci dentro la bottiglia e allora a questo punto, o la lattina, avremmo un contatto termico migliore, quindi un trasferimento di calore dalla bevanda calda all'acqua fredda più veloce. Tuttavia le leggi della termodinamica ci dicono che fin tanto che coesistano acqua e ghiaccio contemporaneamente, cioè finché il ghiaccio non è tutto sciolto, l'acqua rimarrà a 0 gradi, indipendentemente dalla quantità di ghiaccio che ci mettiamo, quindi noi non possiamo raffreddare molto molto velocemente la birra. Per far questo c'è bisogno di un terzo ingrediente che si tratta del sale. È una tecnica vecchissima, di secoli, di molto prima che si inventassero i frigoriferi. Come si fa? Beh, allora, bisogna fare una miscela di acqua, ghiaccio e sale. L'acqua serve per migliorare il contatto termico. Se avete avanzato quel sale rosa dell'Himalaya che dopo aver visto il mio video avete deciso di non consumare più, va benissimo per questo esperimento. Quindi prendiamo il sale. La percentuale migliore sarebbe circa una parte di sale per tre parti di acqua e ghiaccio. Quindi abbiamo il sale, io ne ho messo circa mezzo chilo. Aggiungiamo dell'acqua per cominciare a scioglierlo. Giriamo grossolanamente. E poi aggiungiamo il ghiaccio. Se la miscela di acqua e ghiaccio rimane a 0 gradi e non può andare al di sotto, beh, la miscela di sale, acqua e ghiaccio può arrivare anche a meno 21 gradi. Quindi si tratta di mescolare un po', e a questo punto prendete la vostra bottiglia di birra e la vostra lattina se volete, le mettete a bagno in modo da migliorare il contatto termico e aspettate. Intanto che si abbassa la temperatura vi spiego perché succede una cosa di questo genere. Avete presente d'inverno quando si prende il sale e lo si sparge sulle strade per sciogliere il ghiaccio? Qualcuno di voi magari si sarà chiesto come diavolo fa il sale, che quando lo si butta non è caldo, a sciogliere il ghiaccio. Beh, in realtà non sta aumentando la temperatura del ghiaccio portandola al di sopra dello zero, come faremmo se riuscissimo a scaldarlo. Quello che sta facendo il sale è abbassare il punto di congelamento dell'acqua. Cioè se l'acqua pura congela a 0 gradi e si trasforma in ghiaccio, come possiamo vedere mettendola nel freezer, l'acqua contenente delle sostanze, quindi per esempio il sale, ma ce ne sono tantissime altre che possono funzionare efficacemente, si congela a temperature inferiori, quindi a meno 1, meno 2, meno 3, a seconda della quantità e del tipo di sostanza che si mette. Quindi quello che succede d'inverno quando si butta il sale è che la temperatura esterna, che magari, non so, è meno 2, meno 3 gradi, risulta comunque superiore alla temperatura di congelamento della miscela sale e acqua e quindi il ghiaccio si trasforma in acqua liquida senza scaldarsi. Il fenomeno è identico a quello che vediamo qui, solo che lo sfruttiamo per diminuire la temperatura. Quindi per esempio per le quantità che ho messo magari la temperatura di congelamento è di meno 5 gradi, meno 7 gradi, meno 10 gradi, si dipende un po' dalle quantità. Il ghiaccio ha voglia di trasformarsi in acqua, però noi non lo stiamo scaldando e quindi l'unico modo che ha per assorbire energia, per rompere i legami e quindi per trasformarsi da acqua solida, cioè ghiaccio, in acqua liquida, sfrutterà l'energia stessa di questa miscela per rompere i legami del ghiaccio e trasformarsi in acqua. Facendo questo la temperatura si abbassa e raffredderà velocemente quello che noi abbiamo messo dentro. Ed ecco che dopo 10-15 minuti le mie bevande sono ormai freddissime e posso berle. Come vi dicevo, teoricamente se mettessi la quantità esatta, pesata di sale rispetto al ghiaccio, esattamente il 23,3% di sale e il resto ghiaccio, potrei arrivare a temperature di circa meno 20. Ecco, noi non siamo arrivati a temperature così basse, perché non ho misurato il sale e il ghiaccio in modo preciso, ma abbiamo raffreddato, mamma mia, abbiamo raffreddato in modo efficace le mie bevande, per cui è il caso. Asciughiamolo un po'. Mi perdonerete se mi apro. Attenzione a lasciarle dentro troppo perché sennò si congela. Buone vacanze dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!